E' un tratto di strada che non è nuovo a queste tragedie, ma è anche uno dei più gettonati, soprattutto nel periodo estivo, dai motociclisti che attraversano con le loro due ruote questo spicchio di Toscana. Siamo nella Valtiberina Aretina, qui stavano viaggiando due motociclisti che intorno alle 12.20 al Valico dello Spino, nel comune di Pieve Santo Stefano, si sono scontrati. Uno schianto tremendo, una delle due moto ha preso fuoco ed il suo conducente, Crescenzo Didonato, 61 anni, dermatologo, è morto carbonizzato. Sul posto è immediato l'intervento dei sanitari del 118 con ambulanza automedica e Pegaso, presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'altro motociclista, un 46enne di Impruneta, è stato trasportato dal Pegaso in codice rosso all'ospedale di Careggi. La moto del 61enne è stata letteralmente mangiata dalle fiamme. Questo tratto di strada è spesso oggetto di controlli da parte dei carabinieri forestali per l'alta velocità con cui i centauri la percorrono, controlli che erano ripresi anche nelle ultime settimane, diverse le irregolarità riscontrate e le patenti ritirate.